Allora, senti questa barzelletta, c'è un barbuzziente che fa praticamente il lato guida, cioè quello che ha visto l'esaminante, che stanno a fare la guida, allora gli dice tipo gira a destra, gira a sinistra, però naturalmente il barbuzziente gli fa gira a destra e questo gira a destra. Dai dai, metti la freccia, metti la freccia e gira, adesso fregna che botta!